Perché la figura del golem? So di per certo che il golem è una creatura affettiva, di una frase che Sarakene ha letto di Roland Barthes diceva che essere innamorati è un po' come stare ad Auschwitz, a diluire l'identità fino a quasi a dissolverla poi. Dialogo muto sul significato delle cose. Oggi ho il piacere di presentarvi June Shalpy, una poetessa che ho conosciuto attraverso la sua ultima pubblicazione, Il Golem, Interruzione, con cui mi onoro di condividere un posto nella collana Il Fiore del Deserto, della Fallone Editore. Il Golem ha ricevuto diversi apprezzamenti, ricordo, tra gli altri, il premio Flaiano nella sezione Under 35. Dunque, quando si parla di scrivere poesia, è difficile dire se la poesia ci scelga o siamo noi a scegliere la poesia, è sempre uno strano equilibrio, è vero. Attraverso la scrittura, attraverso la scrittura poetica, June è riuscita ad attraversare e ad affrontare alcuni nodi essenziali sia della propria individualità, ma anche del contemporaneo, della contemporaneità, ed è anche per questo che l'ho invitata. Tuttavia, attraverso quindi il linguaggio poetico, riesce ad astrarsi, ad andare oltre, e quindi non seguire il mero contingente. E lo fa in modo abbastanza unico e singolare. Il Golem. Iniziamo proprio da questo, cioè, quindi, la mitologia. La mitologia, in apparenza, può anche sembrare qualcosa di classico, gerarchico, legato a leggi, strutture, cosmogonia, ad esempio. Però è anche vero che il mito e la mitologia è stata anche una chiave per reinterpretare il presente nei secoli, ed è anche qualcosa di reinventabile e reinventato. Quindi la mia prima domanda, June, è qual è il tuo approccio alla mitologia e perché la figura del Golem? Ok. Allora, intanto ciao. Ti ringrazio della presentazione. E della domanda, ovviamente. Allora, per quanto mi riguarda, devo dire, mentre il libro era in fase di scrittura, mentre cercavo di mettere insieme un po' le idee che avevo, la figura del Golem non esisteva, non era ancora veramente contemplata, ovviamente avevo qualche poesia, qualche pezzo, diciamo, pronto, e avevo un po' tutte le mie intenzioni, no? Perché per me poi la parte fondamentale della poesia è l'intenzionalità. E quindi avevo un po' di intenzioni che erano quelle di parlare di linguaggio, di costruzione di senso del mondo, anche attraverso il linguaggio, e di altre cose. E, diciamo, poi ad un certo punto, così in realtà è venuta in maniera molto naturale l'idea di affidarmi alla figura del Golem. Io con il mito non ho... c'è un rapporto quasi standard da persona che ha fatto il liceo, quindi che ha molto attraversato la parte di interesse legato al mito, anche proprio di fascinazione, e poi con il proseguimento degli studi, per quanto mi riguarda, poi l'ho un po' lasciato andare. Infatti, quando io ho trovato e cercato di utilizzare la materia poi del Golem, non l'ho fatto con l'intenzione di creare una mitopoiesi, non l'ho fatto, cioè quasi, non l'ho trattato come se fosse un mito. È ovvio che il materiale d'origine è quello, ma l'ho utilizzato più come se fosse un vero e proprio framework, uno strumento di interpretazione, di lettura, come se fosse una sorta di sistema, di teoria. Quindi, diciamo, questo forse mi ha aiutata. È ovvio che quando ho deciso di proseguire su questa via, poi ho fatto tante ricerche, quindi sono partita dalla mitologia ebraica, dal folklore, da tutti i rimaneggiamenti, ho letto molte cose, e quindi sono passata anche di lì. Però la cosa che mi importava era che il Golem fosse il sistema che io andavo ad applicare alla struttura della poesia che volevo creare, dell'opera, del libro. Questo è molto interessante, cioè utilizzare qualcosa di mitologico, il mito, appunto per parlare poi di se stessi, di parlare di cose che col mito di per sé centrerebbero relativamente. Questo è stato fatto, ad esempio, da innumerevoli figure, cito Stravinsky, per citare la musica, cito Pavese, nei dialoghi con Leuco. questo mi porta anche un aneddoto di un filologo classico, Dodds, Eric Dodds. Lui cita un avvenimento, cioè quando portava i suoi studenti a visitare musei in cui erano esposti i marmi atteniesi. E questi studenti, piuttosto che essere interessati, diciamo, ai canoni classici della scultura greca, dell'architettura greca, come possono essere, diciamo, l'equilibrio, la compostezza, la bellezza, la purezza, il biancore, erano interessati piuttosto alle venature, cioè ai pattern del marmo, ai colori poco visibili a distanza, ma vicini. Quindi Dodds capisce come il mito sia da reinterpretare in modo nuovo, in modo diverso. E questo è quello che fai tu. Quindi tu attraverso il golem, come dicevi, cerchi di attraversare, di rapportarti col contemporaneo e di parlare di qualcosa di nuovo. I temi sono tanti, sono quello del linguaggio, quello dell'identità, del vuoto. Cercheremo di attraversarli. Inizierei magari leggendo uno dei testi, che a me piace molto, per poi parlare dei temi successivamente. Nei giorni seguenti, altri silenzi si susseguono diversi e interpretati cieli per ogni possibile inquinamento. Chiude ogni vetro che mostra l'esterno. La terra ora è scena di morte, sigillata d'archetipo nel testo. Amore, portami in val di non, vedi come tutto qui tende alla negazione, se ne va per la rinuncia. Al crono giornale planetario solo notizie da altri pianeti, carrellate di calcio, crimini e bambini morti sotto grotte. La stagione dei monsoni lavici. Cerco la notizia che va per la maggiore, solo maschi maschili, femmine femminili, cani canini. Un umore appresta la cronaca nello stragrigio. Sarà per gli altri la falsa icona, il topos degli umani, il dio pasto per il pranzo. Un rito da fare per un significato. Dunque, senza perderci in parafrasi o didascalismi, non voglio essere didascalico assolutamente, è chiaro che tu attraverso la tua poesia poni anche il problema del contrasto tra vecchie e nuove categorie, tra vecchie e nuove interpretazioni del mondo e attraverso anche una reinterpretazione del linguaggio. E quindi c'è sia una chiave individuale che è una chiave anche politica in un rapporto sia mentale che anche interiore e fisico e corporale con il mondo. Quindi, perché scegliere la poesia come mezzo di reinterpretazione del mondo? Perché secondo te ha un valore? Ripeto, lo hai scelto o sei stata scelta? Allora, intanto volevo fare una piccola parentesi dicendo che è molto assurdo che tu abbia nominato Dodds perché il periodo in cui scrivevo il Golem, e che poi tu abbia letto questa poesia, perché il periodo in cui ho letto il Golem che era un periodo in cui stavo leggendo molte cose appunto che riguardavano questo genere di argomenti. Ho letto anche Dodds, ma ho letto anche Cot, Divorare Dio, che è uno studio molto bello diciamo sulle baccanti e sulla tematica della teofagia che è presente nella poesia che hai letto alla fine, diciamo così. Ma anche Fraser, anche De Martino, cioè diciamo ero entrata un po' in questo momento in cui stavo pensando a questioni antropologiche e cose del genere. Quindi vabbè, volevo dirlo perché la trovo particolarmente calzante. Comunque, per quanto riguarda quello che mi hai detto, diciamo, io mi ricollego a una delle prime cose che ho detto, cioè per me la poesia è un'intenzione, quindi vorrei dire che non so bene, vorrei dire sì, l'ho scelta, ho scelto io di utilizzare la poesia, ma poi in realtà quando ci penso veramente credo che il modo in cui decidiamo di raccontare qualcosa non è, non derivi del tutto da una preintenzionalità, cioè è un processo in costruzione, quindi diciamo ho scelto costantemente forse di utilizzare la poesia perché è un po' il luogo dove la lingua può fare cose che non ti aspetti che la lingua riesca a fare per me ovviamente era molto importante rispetto agli argomenti che volevo trattare, parlare proprio sia di questo processo che attraverso questo processo, utilizzare questi entrambi gli aspetti della poesia quasi in una forma ricorsiva. Questo rapporto con il linguaggio è fondamentale, no? Cioè non si reinterpreta il mondo, non si cambia il mondo senza reinterpretare il linguaggio e la lingua, no? E quindi vorrei citare l'esergo del libro, la citazione iniziale, che è prima, facciamo che prima la leggo e poi dopo dico da cosa deriva, Perché anche questo è il punto, cioè reinterpretare e rimaneggiare la lingua e il linguaggio in modo tale che non importa più il contesto di riferimento, perché è la lingua che si fa e si reinterpreta e ricreare i modelli del mondo. Today is the last day that I'm using words. They've gone out, lost their meaning, don't function anymore. Quindi queste parole che perdono il significato, non hanno più funzionalità, vanno oltre per reinventare, per farne un diverso strumento. la citazione è da una canzone di Madonna, Bad Time Story. È, diciamo, un'apertura interessante, no? Se vuoi parlarci un po' di come l'hai metabolizzata, di come l'hai pensata e di che relazioni ha poi con il resto dell'opera. Certo. Diciamo che appunto come ti dicevo, a me importava molto lavorare anche su queste strutture di ricorsività all'interno del testo, però ci sono vari elementi che man mano ritornano, tra cui questa questione ovviamente delle parole che non funzionano e anche del titolo Bad Time Stories, no? Questo storia della buonanotte, no? Che si racconta a letto che tra l'altro è un po' il diciamo il paesaggio di una delle sezioni del libro che è quella che si intitola Ambiente dal buio in cui c'è questa sorta di scambio di storie tra le soggettività presenti e tra l'altro la canzone di Madonna è una canzone scritta da Bjork che ritorna in esergo in un'altra sezione quindi c'è insomma un po' di ricorsività tutto questo per dire che per me partire da questa canzone voleva dire cercare di di parlare di come il linguaggio sia uno strumento ovviamente non solo è un vero e proprio strumento di potere in grado di creare la realtà di modificarla di plasmarla di distruggerla anche di farla a pezzi è in questo libro che in un certo senso ha un impianto direi quasi filo narrativo non so parla narrativo cioè c'è una storia che percorre il libro le soggettività presenti all'interno vivono in un luogo agiscono in un luogo in cui parlare non è esattamente la cosa più più semplice da fare anzi quasi proibito quindi a volte raccontarsi le storie di notte al buio è anche una sorta di rivendicazione politica cercare di plasmare un mondo ulteriore contro chi detiene il potere dell'autorità e quindi del linguaggio stesso cioè crearne uno nuovo privato e a riguardo vorrei leggere un altro testo poi continueremo con la discussione i pomeriggi del golem sono il tempo sospeso la luce che entra dal vetro il trapasso che opera sulla polvere che si posa sulle cose solo per dire c'è ancora tempo prendi porto calore e pessimi presagi ti ho fatto il pieno di fuori porto un po' di tutto c'è l'opera santa e santa è la voce che ora non uso l'ascolti la voce del padrone ci dice la calma prima dell'azione dunque sì nell'opera c'è diciamo una linea narrativa che vuole in qualche modo legare i testi tra di loro c'è anche l'elemento della ricorsività che tu citavi e però c'è anche la frammentazione c'è anche la difficoltà che è una la difficoltà di costituirsi che è anche la difficoltà di costituirsi del corpo del golem e poi c'è la figura del golem che siamo noi non siamo noi c'è questo sdoppiamento ma anche più che uno sdoppiamento di identità c'è una voce esterna narrativa che narra diciamo una una prospettiva terza che però poi si immette nel nel discorso come nota Antonio Francesco Perozzi nella prefazione ci sono anche slittamenti pronominali e quindi c'è questo continuo sfasamento del linguaggio e dell'identità del soggetto no? Si confermare quello che stavi dicendo cioè il golem per questo io mi riferisco dicendo sempre le soggettività che agiscono all'interno del libro perché non non c'è un numero fisso di persone non c'è un'identità fissa che queste persone hanno se anche volessimo dire sono due soggettività che si contrappongono il golem e quella della persona a cui questo golem diciamo è affibbiato poi non è così perché ovviamente avvengono degli scambi tra queste persone l'una diventa l'altra e poi l'interno diventa l'esterno e così anche con gli oggetti che circondano che li circondano quindi sì il punto era anche creare non solo una sorta di amalgama o di frammentazione ma diluire diciamo l'identità fino quasi a dissolverla poi esatto cioè un aspetto interessante noi abbiamo citato la mitologia e la reinterpretazione della mitologia in un certo senso a me verrebbe da citare anche Camille Paglia che è stata una figura chiave degli anni 90 e che è spesso oggetto di discussione anche di critica Camille Paglia riprende anche la dicotomia niciana del dionisiaco e dell'apollineo e diciamo la porta anche a una posizione maschile e femminile di fatto invece tu cerchi di andare oltre a questo cioè la tua interpretazione mitologica è di questo impasto di questa cora anche che in cui difficile in cui c'è questo conflitto in cui si cerca anche attraverso la poesia anche andando oltre il linguaggio attraverso la poesia di trovare una soluzione una pace e magari prima di dimmi la tua parere poi magari leggerei la poesia finale del libro che secondo me è indicativa al riguardo sì mi viene spesso in mente quando durante una presentazione qualcuno non mi ricordo chi mi chiese se il golem fosse una creatura sessuata e sessuale e ovviamente la mia risposta era che non lo so cioè non è non è una cosa che mi sono chiesta ma so di per certo che il golem è una una creatura affettiva e i moti dell'affettività sono sono quelli che poi agiscono all'interno del libro tra queste soggettività e sono le cose che spingono ad essere altrimenti da sé a provare ad essere altro da sé per se stessi ma anche per per gli altri e le altre quindi è anche anche per questo che il golem è questo impasto che si trasforma si squaglia si distrugge si spacca si rimescola fino anche ad assumere un'identità ad un certo punto storicizzata in una figura realmente esistita cioè c'è tutto un processo vorrei dire quasi epico senza però mettere in gioco le categorie letterarie dell'epicità però insomma sì è questo sì è interessante perché c'è questo paradosso tu alla fine fai anche una sorta di epica è vero e però si vede sempre al di sotto di questa epica come ci sia un vuoto come ci sia la percezione di qualcosa che manca qualcosa che non sostiene quando invece l'epica è trionfale di solito leggerei adesso la poesia finale che è introdotta da un'altra poesia quella di Claudia Ruggeri e che insieme diciamo ripercorrono alcune delle tematiche di cui abbiamo parlato finora lascio pareti chiare per le tue questioni di preghiera mi tolgo dal dettaglio di questi ultimi versi gira e rigira tutto il barbaglio tutta la verità sta qua Claudia Ruggeri ora che la poesia è questione di vita o di morte lo abbracciamo e nell'abbraccio siamo uno assorbiti dalla creta palesati mai statinati per sempre confortati il golem mi dice e quindi ci diciamo lo vedi scrivere poesia è potersi non pensare in un finale smettiamo di chiedere ecco questo rapporto tra vita pulsione e morte in questa congiunzione finale era pacificatoria ma anche che lascia dei silenzi cioè la parola in quanto sé è stata superata perché si è in questo in questo in unione primordiale che porta sia vita ma anche morte no? e questo è un tema mitologico assai affrontato da altri autori parlaci un pochino anche del rapporto con la poesia della Ruggeri cioè questa conclusione è riappiacificante oppure lascia aperta dei dissidi come 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 l'ha interpretata? Allora diciamo forse ripercorrere le tracce della storia del golem cioè della figura mitologica del golem dicendo che il golem c'è un po' il punto principale del golem e delle storie che riguardano il golem è che ad un certo punto il golem viene distrutto viene annullato questo perché il golem è un gigante d'argilla nella mitologia che diciamo viene costruito per servire la comunità ebraica e ad un certo punto comincia a rappresentare per vari motivi un pericolo per la comunità stessa e quindi viene viene interrotto e quindi si può dire diciamo che in un certo senso proprio a livello ontologico costruire un golem vuol dire già interromperlo cioè il golem contiene in se stesso la sua fine e io a me interessava molto indagare su questo una volta che il golem siamo noi e sono gli altri ed è il linguaggio ed è il il senso del mondo ed è tutto questo e e quindi questo spaventa rappresenta anche una minaccia non solo qualcosa diciamo di positivo come tutti i mostri i mostri fanno paura però alla radice della loro parola c'è appunto il mostrare sono un'apparizione e di per sé le apparizioni sono cose neutrali e quindi a me interessava questo c'è l'interruzione del golem che che è questa scelta di di non di non chiudere di non di non interromperlo di non cioè di non respingere la possibilità che esista e quindi si è una sorta di di accettazione ma ora io non vorrei dire appunto se in un senso o in un altro a me importa molto che il fattore della crisi rimanga vivo e presente perché mi sembra uno snodo centrale dei rapporti tra gli esseri non solo nel libro proprio tra le persone non è che ogni cosa debba essere pacificata o risolta esistono cose che è in grado di andare avanti per sempre ed era un po' il senso di questo semplicemente accettare che le cose siano e prendersi quello che ci danno giusto chiaro per quanto riguarda invece il rapporto con il linguaggio è chiaro che il rapporto con il linguaggio è anche un rapporto con le strutture e quelli che tu chiami costrutti infatti c'è anche un rapporto diciamo con l'impossibilità di rapportarsi con le strutture del mondo contemporaneo per poterle reinterpretare e c'è anche il problema dell'arbitro del controllo cioè siamo in controllo di noi stessi siamo in controllo di ciò che ci circonda siamo in controllo probabilmente no è anche questo un aspetto della ritualità e di questa interruzione nella nascita di questa impossibilità di costituzione credi c'è anche questo elemento nella tua ricerca sicuramente c'è una grande attenzione verso gli elementi le strutture ma soprattutto le strutture di potere che tendono a essenzializzarci a sovradeterminarci a me interessa ovviamente molto questo discorso un discorso che ha a che vedere con l'identità ma anche la salute ma anche la politica la socializzazione delle persone quindi sì direi che ovviamente inevitabilmente poi queste questioni confluiscono anche nel libro attraverso figure del padrone di questa sorta anche di dittatura che è presente e non presente che non si capisce anche quella se è una cosa effettivamente più interiorizzata che una vera e propria istituzione che agisce sugli altri il controllo ad un certo punto il controllo può anche smettere di esistere fuori ma siamo in grado di farlo esistere all'interno di noi cioè diventiamo anche un po' la polizia di noi stessi c'è questo pericolo e quindi sì insomma sono argomenti che mi interessano sicuramente ci ho ragionato quindi abbiamo parlato di antropologia di mitologia abbiamo parlato di linguaggio parliamo di letteratura cioè i riferimenti letterari sono relativi cioè abbiamo parlato di Bjork abbiamo parlato di Madonna c'è un riferimento poi anche però a Sarah Kane che tuttavia ha un rapporto con il corpo è un rapporto anche stilistico con la scrittura diverso dal tuo nonostante ovviamente ci siano molte sovrapposizioni parlaci un pochino delle tue influenze letterarie per la scrittura del Golem o anche in generale della tua ricerca poetica mi sono molto divertita da questo punto di vista con il libro perché per me creare le citazioni in ogni sezione l'esergo tutto il resto era anche un po' cercare di creare un pantheon di influenze una sorta di mitografia personale e anche un po' pop perché ovviamente molto spesso diciamo si incontra gente convinta che le influenze debbano essere solo di un certo tipo mentre diciamo a me non interessa io non lo so ci ho messo Madonna come ci ho messo Sarah Kane come ci ho messo insomma altre altre cose e quindi niente c'era il tentativo di creare questo pantheon anche un po' una sorta di dedica a tutte le donne che hanno un po' influenzato la mia poesia infatti mi pare che l'unica citazione ad opera di un uomo fosse l'orco di Gardner detto questo mi riallaccia anche alla domanda che mi hai fatto prima che mi sono ricordata l'ho evitata senza rendermene conto quella su Claudia Ruggeri sicuramente l'influenza di Claudia Ruggeri è stata importante durante il periodo di stesura del Golem non tanto un'influenza non so veramente stilistica quanto più proprio vorrei dire quasi spirituale cercando di evitare intrusioni animistiche però mi sono avvicinata alla sua figura l'ho riscoperta una poeta salentina di origini vabbè napoletane e ci sono molte cose che mi hanno colpita ovviamente anche il modo un po' in cui la sua poesia è stata direi quasi proprio denigrata oltre che malinterpretata mentre lei aveva questa questa sorta di modalità di procedere molto barocca fondata anche molto sull'accumulo delle immagini su questa forza centrifuga delle sue poesie che tende a risucchiare tutto veramente scrive delle poesie scriveva delle poesie veramente molto particolari molto belle che io appunto ho letto in quel periodo quindi sicuramente mi hanno fatto riflettere molto anche il riferimento alla sua vicenda biografica e poi c'è ovviamente Sarah Kane che è una credo delle mie autrici preferite in assoluto l'opera citata all'interno del Golem che è in italiano mi pare purificati è un'opera che riflette moltissimo sul corpo e sulla frammentarietà dell'identità ma anche una sorta di opera veramente queer antelitteram direi antelitteram nel senso che poi non c'è dato sapere effettivamente fino a che punto avesse in mente determinate cose Sarah Kane però essenzialmente la storia di questo personaggio che perde il fratello e comincia a identificarsi così tanto col fratello da voler diventare il fratello attraverso delle operazioni che somigliano più a delle torture considerando oltretutto che la storia è ambientata in un'università in un campus universitario che è praticamente però raffigurato come un campo di concentramento è che la storia è stata scritta attraverso l'influenza di mi pare di Roland Barthes di una frase che Sarah Kane ha letto di Roland Barthes diceva che essere innamorati è un po' come stare ad Auschwitz mi pare qualcosa del genere insomma detto tutto questo mi pareva proprio di doverlo citare perché è una storia appunto che parla di come il linguaggio modifica l'interiorità e l'interiorità modifica il mondo esterno la persona che siamo non è mai la persona che siamo e tutto questo infatti il passo che cita è una proprio delle ultime battute ed è una però secondo me potentissima e poi tutte le altre diciamo influenze di quel periodo derivano principalmente dalla musica come si è visto anche lì spesso musica che riflette sulle parole sul sul senso delle cose a me poi piace molto la musica elettronica quindi anche quel tipo di panorama sonoro Certo Bjork in questo caso è evidente ci sarebbero varie cose di cui parlare è interessante innanzitutto come le influenze siano stratificate varie cioè secondo me uno dei connotati principali non solo dell'elettronatura del presente è questa estrema varietà che deve poi trovare corpo in qualcosa di diverso cioè adesso dobbiamo fare i conti con una stratificazione e anche un miscuglio di generi di forme e di esperienze artistiche estremamente eterogeneo che ci piaccia o meno a me personalmente piace e tuttavia questo è il futuro della letteratura e non solo e anche come dici tu l'influenza della letteratura tra virgolette applicata cioè i testi per musica sono e secondo me questo è uno lo dicevo anche con un'intervista con Michele Falcone uno dei futuri della letteratura è quello della letteratura applicata applicata a film applicata a testi di canzoni applicata a videogiochi e riuscire a come dire reinterpretare tutte queste forme in modo personale e unico è uno dei tuoi pregi è uno anche dei dei modi in cui si può fare poesia cioè la poesia è anche qui mi ricito perché in un'altra intervista quella con Domenico ciao mamma conosciuto anche come ciao mamma si diceva non si fa poesia con la poesia citando Carmelo Bene cioè non è solo con le forme e le strutture tipiche e canoniche della poesia che si fa la poesia anche perché il tuo obiettivo è quello di reinterpretare le categorie e il reale contemporaneo quindi cioè per fare una nuova poesia per superare il linguaggio poetico e non è chiaro che bisogna in un qualche modo superare le dicotomie superare i contrasti i binarismi per raggiungere un qualcosa di personale inedito e che abbia un valore concordo concordo su quello che hai detto nel senso ormai non possiamo prescindere dal fatto che non vorrei dire le forme artistiche ma in realtà credo qualunque tipo di informazione sia diventata proprio rizomatica ce lo dimostrano anche i meme ora esempio proprio molto contemporaneo il modo in cui le cose viaggiano si influenzano e appunto anche si iscrivano l'una nell'altra quindi per me è essenziale lasciare proprio a casa ogni tipo di dispocchia nei confronti delle cose che si fanno anzi cercare anche ad un certo punto vorrei dire quasi una distanza ironica dal proprio processo artistico per non rischiare di sacralizzarlo di farlo diventare qualcosa di appunto qualcosa di troppo immateriale anche di trascendente questo è un grosso errore che secondo me la poesia ha fatto nel corso nel passato e che molti poeti hanno fatto cioè e che tuttora alcuni fanno e invece nel tuo caso questa idea di sporcarsi le mani e di mettersi in gioco in maniera dinamica in maniera in prima persona ma senza sacralizzarsi anzi come dicevi tu senza cercare una stasi perché tu non cerchi la trascendenza non cerchi il punto di arrivo cioè il finale è di fatto un inizio e viceversa dove vita e morte si congiungono si si è una sorta di vorrei dire un una tappa ecco cioè una tappa che non vuol dire punto d'arrivo no la tappa è una zona intermedia dove hai della strada dietro e ne hai anche davanti cioè ed è così cioè non c'è un momento in cui non sia così secondo me benissimo prima prima di chiederti di leggere una poesia a tuo che a tuo piacimento se sei disposta benissimo quindi dopo dopo ce ne leggerai una ti volevo chiedere hai qual è dato che il golem è una di queste tappe hai delle tappe future qual è il tuo prossimo processo di di scrittura se hai nuove nuove idee se hai nuove ricerche se vuoi cambiare qualcosa di ciò che hai fatto come come ti stai comportando con la poesia perché comunque la poesia è qualcosa di difficile da da gestire a volte no allora diciamo che in questo momento mi sto dedicando cioè sto andando in una direzione un po' un po' lontana rispetto a quello che ho fatto finora cioè nonostante diciamo ci sarà qualcosa in uscita che che è ancora un po' legato al golem in un certo senso una sorta di di lato B e ghost track di appartenenti a a quest'opera in realtà adesso sto lavorando un po' su su un altro settore sto cercando di di pensare alla scrittura senza sovraintenzioni e a portare un po' cioè a portare un po' il sovrasenso l'apparato metaforico diciamo al grado zero della scrittura lasciando che sia la scrittura stessa un po' convoluto come ragionamento non so bene esprimermi ancora perché sono in quelle fasi proprio iniziali direi proprio larvali in cui stai facendo una cosa che però sai già che sta per cambiare che cambia costantemente quindi come dicevo prima per me il processo di creazione è un po' questa cosa in cui vuoi fare qualcosa però poi le cose si fanno anche un po' a prescindere da te e quindi c'è tutto questo baratto continuo di di intenzione e istinto invece quasi quindi vediamo non so ancora bene dove sta andando vediamo è il paradosso di cui parlavo all'inizio cioè si sceglie o si è scelti dalla poesia è sempre questo equilibrio particolare e invece per quanto riguarda diciamo altre espressioni artistiche perché viviamo nel secolo delle immagini no è abbastanza banale dirlo ma è vero cioè siamo siamo veramente inondati da immagini di diverso tipo immagini di movimento immagini statiche hai dei riferimenti anche visivi cioè quando si scrive poesia o quando si legge poesia è evidente che si hanno anche dei delle sensazioni magari non definite ma che hanno anche dei corrispettivi visivi e a volte sono luoghi a volte sono spazi a volte sono anche opere artistiche è anche un periodo questo in cui nel in letteratura si parla molto di ecfrasi l'ecfrasi è appunto la descrizione di opere d'arte attraverso un testo letterario poetico nel tuo caso invece qual è il tuo rapporto con l'immagine con le immagini è un rapporto molto molto intenso io a liceo ho studiato audiovisivo e multimedia e in università mi occupo praticamente principalmente di cultura visuale quindi è un rapporto molto intenso diciamo mi piacciono molto cioè mi interessa molto di arte contemporanea ma anche di video art di fotografia ad esempio nella plaquette diciamo che uscirà tra qualche mese sono presenti anche una serie di mie elaborazioni digitali di foto che ho scattato cioè ecco sto cercando anche un po' diciamo non è una un territorio che sento di esplorare in maniera appunto progettuale come con la poesia no? dove lavoro veramente a qualcosa è più una sorta di di controparte che faccio così direi proprio puramente in maniera naif per piacere quando mi dedico appunto alle mie cose a questi lavoretti però per il resto mi interesso molto di questo genere di cose potresti citare potresti citare alcuni artisti contemporanei o videomaker che apprezzi o che ti hanno influenzato sì sicuramente Gianni Toti che è stato anche un grande poeta italiano e Cahen anche di cui mi piacciono molto i lavori le video art diciamo i lavori divisivi benissimo io concluderei Jun con una poesia letta da te invece questa volta finalmente direi scegli pure quella che preferisci sì sì aspetta che mi allungo per prendere il libro no problem no problem 37 la poesia che hai scelto era stata contrassegnata da me però quindi diciamo c'è una sintonia ma è pure dialogo muto sul significato delle cose i giorni a incandescenza ci offrono bagliori rari torniamo a casa allontaniamo le grida nel palazzo blindando la porta interziamo un argomento nuovo è vero non ci sono molte cose altre su cui discutere posti dove andare non resta che decidere mi fai di contingenza o mi rinchiudi al referente che mi indica resta di affidarci al senso del segno poco da aggiungere grazie non affidiamoci ai segni lasciamo la poesia a parlare grazie mille Jun per essere stata qui ti ringrazio di cuore e per la conversazione che abbiamo avuto grazie a te grazie a te